Da parte della Chiesa Cattolica vi chiedo perdono. Vi chiedo perdono per gli atteggiamenti e i comportamenti non cristiani, persino non umani, che nella storia abbiamo avuto contro di voi. In nome del Signore Gesù Cristo, perdonateci. Nel Tempio Valdese di Torino, Papa Francesco ha lanciato un nuovo appello all'unità tra i discepoli di Cristo, chiamati a camminare insieme e a rispondere a una voce sola alle urgenze del nostro tempo. Il Pontefice accolto con fraternità ha indicato in particolare due ambiti, l'evangelizzazione e il servizio all'umanità che soffre, ai poveri, agli ammalati, ai migranti. Oltre le differenze su importanti questioni antropologiche ed etiche, i cristiani sono dunque chiamati a rinsaldare il profondo legame che li unisce, riconoscendo che l'unità è frutto dello Spirito Santo e non significa uniformità. Papa Bergoglio ha poi espresso rammarico per le passate contese e violenze commesse in nome della fede, ricordando tuttavia che Dio non si rassegna mai di fronte al peccato dell'uomo. Grazie. 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 Grazie.